Fiera di Roma, dal 10 al 13 maggio, apre le porte alla prima edizione di Italy Bridal Expo, fiera interamente dedicata al mondo del wedding. Protagonisti della manifestazione sono i produttori di abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori. All'evento ha partecipato un selezionato numero di buyers internazionali che hanno mostrato grande interesse per le nostre produzioni. Tanti visitatori che hanno potuto ammirare le meravigliose creazioni di ben 60 marchi, esposte in padiglioni dal design elegante e suggestivo. Molto interessante il progetto Bridal Shop, promosso da Confesercenti di Roma e Lazio, in partnership con Camera di Commercio di Roma. Cos'è il Bridal Shop? Il Bridal Shop è un nuovo concept creato da un progetto di Confesercenti di Roma e del Lazio, in partnership con Camera di Commercio di Roma che raggruppa tutte le nostre imprese artigianali che si occupano esclusivamente di Made in Italy, in questo caso al servizio del matrimonio ed è un concept che aspiriamo a portare in giro per il mondo. Quindi un negozio che ospita delle imprese che vendono all'interno di questo concept store. Da sempre facciamo internazionalizzazione e promoviamo l'export per le piccole e medie imprese italiane. Quindi sono imprese tipiche del tessuto economico italiano e che la maggior parte si occupano di fare prodotti esclusivamente artigianali e anche esclusivamente fatti a mano. Hanno una capacità straordinaria che è quella di produrre e di omaggiarci di pezzi unici e quindi meritano un'attenzione particolare specialmente nel momento in cui tentiamo di farle fare rete tutte insieme e portarle poi tutte insieme all'estero perché da sole non avrebbero la capacità di poter fare tutto questo. Unendole in un unico progetto, in una rete di imprese, riusciamo comunque a dare un prodotto nuovo e a dare loro la forza per potersi inserire in un mercato nuovo.